Piccole provocazioni nate a Lizzie con il teatro Scarpanò. Ciao Valentina, ciao Francesco. Allora avete voluto dedicare la magia per i ragazzi, per i bambini e anche per gli adulti oggi. Sì, è uno spettacolo appunto per le famiglie e per tutti quanti. Ci stiamo divertendo e ci siamo divertiti finora ad animare questa bellissima strada coperta con questi personaggi particolari che raccontano appunto delle storie natalizie particolari, inusuali, che magari non si sono ancora sentite. E' molto bello lo scambio col pubblico perché il pubblico sceglie la propria storia, sceglie il proprio spettacolo, il proprio percorso e cammina, itinera nella strada appunto scegliendo la propria fiaba, le proprie fiabe. Ecco, abbiamo visto tutti i bambini incantati, vero Francesco, direttore artistico? Allora noi crediamo nella forza del libro, quindi cerchiamo di promuovere la lettura per i bambini e la lettura teatrale. Quindi il passaggio da un libro, dall'invenzione a poterlo trasformare in teatro. E questa cosa è fondamentale perché il teatro non è la televisione, i bambini imparano ad ascoltare e questa cosa per noi è fondamentale e speriamo che avvicini non solo i bambini allo spirito natalizio, ma anche alla possibilità di contatto umano. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie a voi. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale.